La Metron Disc è una novità assoluta per quanto riguarda il settore ruotidisco, nasce da una piattaforma di una ruota classica, quindi posteriore, raggiata, su cui sono state applicate due carnature in carbonio. L'incollaggio della carnatura sul cerchio e sulla frangia del morso fanno diventare la ruota e la carnatura un tutt'uno, quindi incrementando anche quella che è la rigidità della ruota. La praticità di questo tipo di costruzione è il fatto di poter in ogni momento intervenire sia per quanto riguarda l'accentratura della ruota che la manutenzione del morso. Le carnature in ogni caso possono essere tolte dalla ruota per un'eventuale sostituzione.